La battaglia contro la chiusura del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale d'Imperia prosegue da parte di cittadini, uomini e donne. Mario, voi state raccogliendo firme, state lamentando e combattendo perché questa chiusura non avvenga anche per problemi organizzativi, di viabilità, giusto? Sì, assolutamente. Il gruppo nasce a seguito della mia indirizzazione e in pochi giorni dell'indirizzazione di 11.000 persone nell'avere appreso questa notizia. Sorgono due problemi principali, un problema di viabilità e un problema economico. Viabilità collegata alla sicurezza. Perché sicurezza? Sicurezza perché tutti noi sappiamo che per raggiungere il Sareno ci sono solo due strade, l'Aurelia e l'autostrada. Come è già successo in passato, l'autostrada può essere chiusa per incendi, incidenti e tutto il traffico si riversa sull'Aurelia congestionandola. Capite bene che da Imperia, da Andorra o dal nostro sprinto d'entroterra raggiungere Sanremo può risultare un'odissea. Ma qua parliamo di vite umane, di vite di mamme e di bambini. E anche pochi minuti possono essere preziosi. Ecco, e quindi appunto una raccolta di firme per dire no, noi la ginecologia la vogliamo a Imperia, a Imperia Sanremo, per carità, perché voi non è che dite di chiudere l'altro reparto, di qui e di là. Certo, certo, devono rimanere tutti e due i reparti e continuare a nascere i bambini in Imperia perché dopo questo meraviglioso reparto che hanno fatto è giusto che resta Imperia ed è giusto che le mamme partoriscano a Imperia per il capoluogo. Vogliamo i bambini anche che naschino a Imperia. Ecco, Vittoria, fiocco rose e azzurro, anche Katia, anche perché c'è un discorso economico. Sì. Tre e passamilioni di euro spesi per avere questo reparto, ancora col cielo. Infatti, infatti, ancora chiuso. Dovrebbe essere aperto il 31 di gennaio e invece è venuta e è uscita fuori la bella notizia che bisogna invece trasferirlo. Tre milioni di euro sono tanti, soprattutto perché sono i cittadini che li hanno pagati, questi soldi li hanno tirati fuori i cittadini e lo vogliamo a tutti i costi. Non deve assolutamente andare via da qua, vogliamo ancora bambini che nascano a Imperia e che continuino effettivamente a fare le cose come si deve. Ecco, Katia, siete cittadini fra i cittadini, non ci sono associazioni particolari, ma i cittadini imperiesi che vogliono la ginecologia ancora a Imperia, anche una raccolta di firme per fare questo, per coinvolgere altri cittadini come voi. Esatto, c'è una raccolta firme, domani con la Stancanelli saremo in piazza San Giovanni, qua c'è un modulo di raccolta firme che verrà firmato, consegnato al gruppo che sta seguendo questa fase delicata, però io vorrei solo puntualizzare una cosa. non dimentichiamoci le mamme delle zone limitrofe, tipo Ponte d'Assi o Diano Gorleri, quei posti molto molto sulle alture, come ci arriverebbero, punto di domanda, come si fa a salvare una vita se magari un'ambulanza non arriva per tempo? Grazie. 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 Grazie.